Ciao, io sono Camilla e io sono Ines. Benvenuti alla terza stagione di Made It, un podcast dove intervistiamo italiani di successo per capire insieme come sono arrivati, dove sono arrivati e scoprire le loro idee innovative. Il nostro obiettivo, come sapete, è quello di ispirarvi e di motivarvi. Siamo super cariche per questa ripartenza e abbiamo in serbo per voi delle interviste straordinarie. Iniziamo alla grande con un'intervista a Enrico Pandian, uno dei pochi imprenditori seriali di successo in Italia. Enrico ha cominciato la sua avventura imprenditoriale subito dopo il liceo, a solo 19 anni, quindi all'inizio degli anni 2000, e da lì non si è più fermato. Negli ultimi 21 anni ha fondato ben 17 start-up, tra cui Matura.it e la più famosa Supermercato24. E a maggio del 2020 ha chiuso la sua terza exit con la vendita di Checkout Technologies, un copycat di Amazon Go, a Standard Cognition, una società americana. Nel 2018 ha lanciato la start-up alla quale sta lavorando adesso, Fresco Frigo, un frigorifero intelligente per portare cibo fresco e sano ad aziende in palazzi residenziali, che ha raccolto 2.7 milioni di euro tra equiti e debito. È facile immaginare quello che ci interessava scoprire nella nostra intervista con Enrico, la sua mentalità e il suo modo di pensare. Insomma, cosa significa realmente essere un imprenditore seriale? Che testa ci vuole? E devo dire che Enrico ci ha dipinto molto chiaramente il suo mondo, essendo un po' il padrino dell'imprenditoria digitale in Italia, ci ha lasciato anche con degli ottimi consigli per aspiranti imprenditori. Ascoltiamo la sua storia. Ciao Enrico, grazie mille di essere con noi su Made It. Siamo molto felici di averti qua e non vediamo l'ora di percorrere un po' la tua storia e capire un po' meglio la tua mentalità di imprenditore seriale. Infatti sei uno dei pochi imprenditori seriali di successo in Italia. Hai fondato la tua prima società a 19 anni e da lì non ti sei in realtà mai fermato perché negli ultimi 21 anni hai creato 17 società e sei riuscita a venderne tre. Ci puoi raccontare come hai iniziato e cosa ti ha tratto al digitale così tanto tempo fa? Allora, io ho avuto la grossa fortuna di fare ragioneria programmatore, quindi ho diciamo sia background economico sia da programmatore, insomma. E in più ho la grossa fortuna di essere nato nel 1980, che è un anno, perché è nato nel mio stesso anno, di grossi cambiamenti. Siamo stati i primi a fare la nuova maturità, a fare la nuova università, eccetera. E a parte diciamo la passione che avevo per il computer, perché insomma già quando avevo 16 anni insomma smanettavo un po' il computer a fare piccoli programmini, quando ho finito la maturità avevo questo CD-ROM che conteneva tutte le tesine della maturità, che adesso è una cosa normale ma una volta eravamo i primi a farle, e ho deciso di metterla online. E da lì è nata la mia voglia insomma di fare qualcosa di digitale. Più che altro la parte che mi è sempre più affascinato e mi affascina anche tuttora è il fatto che quando tu fai un progetto digitale ha un impatto su tantissime persone immediatamente, un impatto che può essere positivo o negativo. In quel caso là, quando ho pubblicato questo CD-ROM poi ho iniziato a ricevere tante altre tesine, ma alla fine quel sito aveva più di un milione e ottocento mila utenti in Italia. Quindi insomma avevo un impatto su altri studenti come me, per me era la cosa più bella. Hai capito subito che poteva essere un lavoro piuttosto che un hobby che facevi a lato di un vero lavoro? Allora per me sì, per i miei genitori è stato difficile capirlo. Diciamo che l'hanno capito quando ho iniziato ad avere, se vuoi, i primi successi economici, che lo dico sempre sfortunatamente sono arrivati molto presto, perché quando avevo 21 anni la mia società faceva più di un miliardo di lire, delle vecchie lire. Quindi sai, quando hai 21 anni e hai tanti soldi in tasca fai tante cavolate, però insomma è ovvio che pensi di essere l'imprenditore più forte del mondo, eccetera, eccetera. E poi ovviamente sai, questo è un mondo di alti e bassi, insomma. Però insomma da lì ho capito che mi piaceva questo lavoro e che avrei fatto questo lavoro nella vita, insomma. Non ero più disposto, ti dico, a timbrare il cartellino la mattina. Non faceva proprio per me. È ovvio che poi quando fai questo lavoro non lo devi neanche timbrare, perché 24 ore al giorno pensi al lavoro che fai. Però insomma lo fai con un modo completamente diverso rispetto agli altri. Se non sbaglio c'è stato anche un incontro che ti ha forse anche aiutato a continuare in questo percorso di imprenditore, che è stato quello con Marco Benatti, che era il co-founder di Virgilio. Ci puoi raccontare un po' di come vi siete conosciuti, come ti ha aiutato e poi anche forse un commento generale su secondo te quanto è importante avere un mentore nella vita? Certo, ma è stato ovviamente uno degli incontri più importanti per me. Marco è il papà di una mia amica, di una che era in compagnia con me quando avevo 16 anni e quindi è stato anche facile. Però sai, nel 99 insomma sì c'era la new economy in Italia, però insomma di digitale non è che fosse così largamente diffuso e quindi da lì ho conosciuto Marco. Con Marco ho fatto un primo progetto sul calcio, proprio un mese dopo aver finito le scuole superiori. Marco mi ha dato un ufficio, mi ha dato due persone e ho iniziato a fare questo progetto. Quindi da lì è iniziato tutto diciamo e Marco in modo particolare mi ha indirizzato su tutto quello che è il consumer web insomma. Quindi il fatto di fornire un servizio, un prodotto al consumatore finale direttamente online. Per me scusa è stato molto importante, anzi il ruolo dei mentor è fondamentale secondo me. È ovvio che deve essere un mentor vero, cioè deve essere anche un mentor che ti dice stai facendo una cazzata, questa roba qui è sbagliata, cioè ci vuole qualcuno che sia anche duro con te che ti metta di fronte alla realtà. Perché sai, il problema di noi imprenditori è che abbiamo un ego smisurato e quindi è proprio sull'ego che bisogna andare ad agire. Infatti è molto difficile, ti dico, rimanere umili, ma quando secondo me ne fate tante, ne sbagliate tante, io sono probabilmente uno di quelli che ne ha sbagliate tantissime nella vita e sbaglio ogni giorno che vado in ufficio. Capisci anche che non è che devi tenere la cresta alta, anzi domani mattina può succedere qualcosa e ti può distruggere tutto. Quindi bisogna essere molto disciplinati. Infatti vorremmo parlare anche di quegli sbagli fra qualche domanda. Ma per rimanere sul tema del mentor e rapidamente, secondo te cosa ha visto in te Marco e un po' cosa tu hai cercato di far vedere a Marco? Secondo te come ha fatto a riconoscere in te che comunque eri un ragazzino di 19 anni che poteva pensare, ah sta solo giocando o non è veramente serio? Come hai fatto a convincerlo delle tue intenzioni? Ma guarda, sai, nel corso degli ultimi 20 anni ho visto anch'io tanti ragazzini che potevano essere me, quindi mi immagino di aver visto la stessa cosa. Quello che ho visto, quello che deve aver visto è probabilmente la grinta di qualcuno che voleva fare qualcosa, ok? La passione nel fare qualcosa. Questo secondo me è l'elemento fondamentale. Io lo dico sempre, bisogna investire sui ragazzi, non sulle start-up. Tu devi investire sulla persona. A me tante volte mi è capitato di investire su un ragazzo, vedere l'azienda che andava male, reinvestirci nell'azienda dopo, andare male lo stesso, alla terza di solito gli va bene. Però l'investimento soprattutto in aziende early stage è dato dalle persone, cioè devi conoscere le persone, conoscerle veramente, perché poi sai, è molto complesso mettere i soldi in mano a qualcuno che non è abituato a gestirli. Penso che abbia visto insomma una persona che voleva arrivare da qualche parte in un periodo nel quale sai, non è come adesso vi dici faccio un sito web, anche mia nonna sa cos'è. Una volta mia nonna mi chiedeva che lavoro faccio, capito? Quindi è ovvio che i tempi sono cambiati, però sicuramente avrà visto la passione. Per parlare delle tue società, appunto, sono tantissime per cui non possiamo coprirle tutte. Ti volevo chiedere, di tutte le società ce n'è una di cui vai particolarmente fiero o il cui insomma ricordo di come è andata ti sta particolarmente a cuore? Ma in realtà la risposta è no e mi spiace deludermi, ma semplicemente perché di solito non mi innamoro delle società che ho fatto. Ti dico, ognuna ha avuto un livello di complessità e di soddisfazione completamente diversa, che non è, ahimè, legata al denaro. Infatti ti dico la verità che se avessi dovuto anche farti una classifica supermarcata 24, che è sicuramente la più conosciuta, non sarebbe stata nella mia top list, ma il punto fondamentale per me è più che altro quello che ho imparato da ogni società. Perché ogni società ha dei risvolti particolari, perché ci sono persone diverse all'interno delle società. Io lo dico sempre, la grossa fortuna delle società sono le persone, ma sono anche la grossa sfortuna, perché ovviamente c'è un rapporto personale, bisogna gestire le persone, non è facile. Quindi tutte mi hanno insegnato qualcosa e forse se dovessi dirti la startup che mi ricorderò sarà probabilmente la prossima, quindi non so ancora cosa farò, vedremo. Ottima risposta. E no, tutto molto, insomma, molto utile capire appunto come tu approcci le tue startup, cioè come si fa a essere un imprenditore seriale, sicuramente non innamorandosi di una startup, perché sennò poi ci si fermerebbe lì. E poi vai appunto, l'hai nominato, volevamo anche chiederti una domanda sui tuoi fallimenti, perché è parte integrante del processo di essere un imprenditore e immagino ancora di più di un imprenditore seriale. Ci puoi raccontare di uno dei tuoi più grandi fallimenti, cosa ti ha insegnato e come ti ha cambiato come imprenditore? Sicuramente il fallimento che mi ha segnato di più è stato quello, diciamo, legato a delle riviste free press che ho fatto nel 2004-2006, avevo 24-26 anni. È stato un fallimento perché io arrivavo dal digitale e la società prima che avevo fatto era Matura.it, quella che vendeva le tesine per la maturità, che era andata molto bene e quindi pensavo di poter fare più aziende insieme. E quello è stato per me, anche se al tempo, sai, non c'era la letteratura che c'è adesso, ma comunque si sapeva che fare aziende contemporaneamente non era facile. Quello è stato per me veramente un bello sberlone, nel senso che mi ha risvegliato, mi ha fatto capire insomma che possiamo sbagliare e a volte questi sbagli hanno un'influenza se vuoi economica ma anche personale. Perché lasciare a casa le persone su società di questo genere perché vanno male non è facile. Questo in realtà è la cosa che poi ti porti a casa e quando vedi la faccia della gente gli dici guarda, dobbiamo per forza chiudere, questa è la parte più negativa se vuoi. Poi ovvio guardi il conto in banca ed è distrutto, anche quello è negativo, però diciamo è momentaneo, mentre se il rapporto con le persone dura nel tempo. Invece ti abbiamo sentito dire che in un'intervista che sei una persona che non si arrende mai, che cerca di arrivare all'obiettivo in tutti i modi e la tenacia è sicuramente una delle caratteristiche più importanti per fare impresa. Però ogni tanto tirare avanti ovviamente un'idea che non funziona, un'azienda che non funziona troppo a lungo è un vero problema. Tu come capisci quando è il momento di mollare e passare a un'altra cosa? Ma in realtà quasi subito, nel senso che quando parto io testo tante idee, anche durante l'anno, anche in quest'ultimo anno ho testato varie idee. Le butto sul mercato, inizio a parlare con i visitatori, inizio a parlare con i prospect dei clienti, cerco di capire. Quindi secondo me tu lì già da subito capisci se una cosa può andare bene o male. Poi c'è da tenere presente un altro punto che in molti dimenticano. Dobbiamo cercare di fare cose semplici. Quindi è inutile andare a incapponirsi sul riuscire a monetizzare una cosa complessa. Cerchiamo di fare cose semplici perché ce ne sono tantissime da fare. Possono anche essere super innovative lo stesso, insomma. Quindi io di solito butto online, in testo e ascolto i feedback e soprattutto dico, ascolto la carta di credito che per me, se vuoi, è la risposta più vera. Perché sai, tanta gente poi magari conoscendomi mi dicono ma no, io comprare questo prodotto e poi non lo compra. Io invece voglio vedere la carta di credito che per me è l'unica validazione. Se vuoi è molto triste come risposta, però in realtà è vera. Il nostro mondo è fatto di numeri, insomma. E quindi che consiglio daresti a qualcuno che vuole magari testare la sua idea senza spendere troppi soldi per vedere se continuare. Cioè tu fino a dove arrivi? Cioè crei un piccolo sito, crei un prodotto, fai finta di creare il prodotto e non c'è? Esattamente quello che hai detto tu. Guarda, l'ultima che ho fatto è stato un sito che permetteva agli host di Airbnb di mettere all'interno delle loro camere degli oggetti delle aziende. Essendo pagati dalle aziende, ok? Quindi non so, fai un nuovo speaker bluetooth, lo metti dentro tutte queste centinaia di camere, vieni pagato per ogni persona che poi alloggia in quella camera. Questa è una cosa che ritengo stupenda e l'ho messa sul mercato e non funziona. Quindi è una cosa che se vuoi logicamente potrebbe funzionare ma poi non va. Come l'ho fatto? Ho fatto un sito semplicissimo con uno dei tool online per creare siti web. L'ho messo online, ho messo un form, la gente poteva prenotare una chiamata, alla chiamata rispondevo io, ascoltavo, cercavo di capire e da lì mi sono fatto un'opinione e l'opinione dopo circa tre settimane era questa cosa qui non funzionerà mai. Quindi ho fatto meno di portarla avanti. Penso che il costo di questa operazione qua sia stata forse 500 euro, ti dico la verità. È meglio spendere 500 euro prima che spendere 50 o 500 mila euro dopo. Cioè no, è super utile infatti questo consiglio perché secondo me tante persone si lanciano, magari spendono troppi soldi, poi dato che hanno speso questi soldi non vogliono mollare e invece mi sembra di capire che la maniera in cui strutturi le tue società è di crearle, avviarle. Ad un certo punto trovi dei manager che le gestiscono e una volta che tu stai fuori da questo day to day poi cerchi potenziali acquirenti. Come hai capito che questo era il modello migliore? Ma è molto semplice. Allora è un modello che magari in Italia non piace molto perché noi siamo abituati, poi io sono veneto, ad avere il paron, quello che rimane in azienda fino a 100 anni. Io non sono il parone assolutamente, anzi sono sempre convinto che ci sia qualcuno molto più bravo di me a fare le cose. Io forse l'unico momento nel quale sono molto bravo è proprio l'inizio. Perché non mi tiro mai indietro? Perché cerco sempre di arrivare alla soluzione. Questa logica del fondare le aziende, managerializzarle e poi trovare un acquirente, in realtà è una semplice gestione del portafoglio. Sai, quando investi in borsa non puoi avere solo una quota di un'azienda, perché può andarti benissimo ma può anche andarti molto male. Quindi la logica è identica. In un certo momento ho detto devo avere più più quote di più società. Come faccio? È facile, inizio a fondare più società. È ovvio che è un lavoro non semplice, sai. Infatti se tu vedi molti degli imprenditori che hanno fatto grosse società, poi è difficile che tornino a fare start-up per le stage. Perché è veramente molto difficile, cioè ti porta via il tempo, è totalizzante. Poi iniziamo anche noi ad avere 40 anni con dei figli, non è una cosa facile da gestire. E quindi questo è, diciamo, principalmente motivo. Volevo avere un portafoglio molto più ampio. Invece a te che cosa ti motiva? Cosa ti spinge? Ti piace la parte early stage, mentre sei molto bravo, però è stancante, magari sei anche padre. Quindi non hai mai pensato di, non so, di smettere e goderti la vita? No, sono ancora troppo giovane. Dammi altri dieci anni di lavoro, va. E no, è sicuramente stancante. Io ho due bambine a fatalità, penso che sono nate. Una è nata ai tempi di Prezzi Pazzi, che è la società che ho fatto prima di Supermercato 24, che aveva base a Londra, che è stato probabilmente il successo economico migliore per me in assoluto, la ricordo per quello. E l'altra è nata durante Supermercato 24. E sai, fare una start-up e avere un figlio, una figlia che nasce è veramente super complicato, perché tu hai la testa solo su quella cosa lì e hai di notte uno che piange nel letto vicino a te. Quindi non è assolutamente una cosa facile da gestire. Però è quello che mi piace fare, insomma. Io dico sempre, a volte per fare questo lavoro bisogna essere un po' stupidi. Nell'eccezione positiva del termine, però, è piuttosto. Nel senso che a volte facciamo delle cose che una persona normale ti direbbe, ma sei stupido a fare, ma tu lo fai lo stesso perché vuoi arrivare a un determinato obiettivo. Ecco, io sono quel tipo di persona lì. Cerco di non mollare mai. Un'altra cosa che ho capito è che quando hai finito di fare... Sai, io, come dicivi tu, ho questo processo nelle start-up. Fondo, in circa 18 mesi raccolgo dai 2 ai 4 milioni, managerializzo e esco. Quindi io, diciamo, in 24 mesi, 30 mesi sono fuori dalla società. Ho scoperto che nel momento in cui esco fuori devo assolutamente fondare un'altra start-up il prima possibile, perché diversamente mi impigrisco. E sarebbe il momento nel quale probabilmente dico, no, ma perché lavorare ancora nella vita? Seguo gli investimenti che ho fatto. Invece no, devo continuare a fare questo genere di lavoro. Chiaramente è la tua passione, ma ci puoi raccontare qualche esempio di quello che ti piace di più nel creare una nuova start-up? Quali sono le cose? Qual è il momento più bello, secondo te, in creazione? Ma guarda, allora, sai, nel corso del tempo i momenti belli sono cambiati, ovviamente, perché poi io, che sono un ex sviluppatore, avevo anche una fase in quale mi piaceva scrivere la prima release che ho sempre fatto, Supermercato 24, l'ho scritto io il primo sito web, poi l'ho passato, eccetera. Adesso ti dico, mi piacciono altre cose. Una delle cose che più adoro in assoluto è parlare con gli investitori, perché gli investitori sono personaggi molto particolari. È gente che ha fatto aziende, manager che hanno fatto magari in fondo di investimento, banche, eccetera. Quindi sono persone che hanno un cervello molto fine ed è molto interessante per me parlare con loro, perché riesci ad avere un confronto con delle persone eccezionali. E la cosa che mi piace fare è convincerli. Cioè, molte volte dico, l'investitore classico è sempre scettico su quello che fai, non va mai bene, ma è giusto che sia così, perché il loro ruolo è quello. Quando investi il ruolo è cercare di non perderli, non cercare di avere il multiplo. Questo è il punto fondamentale. Quindi loro cercano di non perderli, io cerco di convincerli che non li perderanno. Ecco, questa è la parte che mi piace di più. Poi c'è la parte di costruzione del team. Anche questa mi piace da morire, ma perché il punto è prendere le persone migliori sul mercato e metterle nella situazione migliore per loro. Questo è proprio, sai, un incastro, un puzzle. Perché alla fine mi sono accorto nel corso del tempo. Io sono partito come voglio essere tutto io, l'amministratore, faccio tutto io. Come tutti quelli che fanno azienda, partiamo così. Poi pian pianino ho preso delle persone che erano molto brave, mi hanno dimostrato di essere brave. Da lì ho iniziato ad avere molta fiducia di queste persone. Punto tale che io adesso, diciamo, delego alle persone il più possibile. Il mio obiettivo è arrivare in azienda e non fare niente. Tecnicamente è veramente questo. Cioè, quello che voglio fare è arrivare in azienda, rispondere al telefono, parlare con la gente. Il computer non vorrei veramente più utilizzarlo. Quindi per fare questo devi prendere le persone migliori e metterle nella situazione migliore per lavorare. E ho scoperto che quando lo fai la gente tira fuori il massimo. Uno perché capisce che finalmente hanno la possibilità di esprimere veramente quello che vogliono. In una startup poi hanno la possibilità di crescere in una maniera incredibile nel giro di quattro anni. Perché se penso al supermercato 24 eravamo in due, vero, il primo giorno e siamo a 170 persone adesso. E nei silive di queste 170 c'era gente che era con me in un ufficio, in un magazzino, diciamo, nel primo anno. E questo è il bello delle startup. Puoi crescere. Il mio lavoro è mettere le persone nel posto migliore per poter crescere. Non so se hai letto il libro di Tim Ferriss, The 4-Hour Week, ma dici esattamente questo, quello che stai facendo tu. È un best-selling book per imprenditori, presidente. Una delle tue aziende più di successo è Supermercato 24. L'idea ti è venuta dopo aver vissuto a Londra e aver usato un servizio di delivery di spese a domicilio, Ocado, che tra l'altro Camila e Dio usiamo anche tutti i giorni, cioè tutte le settimane. Pensi che in Italia ci sia opportunità nel copiare modelli di business da altri paesi e adattarli al mercato italiano? Assolutamente. La grande possibilità che abbiamo noi in Italia. Io dico sempre, a noi, la cosa bella è che siamo due o tre anni indietro rispetto al resto del mondo. Quindi ti basta leggere TechCrunch per leggere il futuro. È la cosa più bella del mondo. Io, guarda, adesso ti dico quello che faccio ogni giorno. Io ho Crunchbase, che è questo sito che raccoglie tutte le varie start-up, e ho un filtro e mi dice tutte le start-up che ci sono negli Stati Uniti che hanno appena raccolto un Series A. Per me quello è un segnale. Io guardo quell'informazione lì, guardo la start-up e dico, ma questa potrebbe funzionare anche da noi e testo il modello esattamente come ti raccontavo prima. Questo è quello che faccio tutti i giorni. Questo è, se vuoi, il mio lavoro principale nella realtà. E l'occasione qual è? L'occasione è molto semplice. Allora, noi siamo un paese eccezionale per quello che riguarda la ricerca e sviluppo. Cioè noi qui abbiamo sviluppatori, ingegneri, che si innamorano di quello che fanno e non fanno la gara, come succede in Silicon Valley, a farsi 12 mesi in una start-up per poi passare ad un'altra e prendere un assegno più grande. Da noi questa roba non esiste. Mi capita tantissime volte che io non riesco a portare via gente da web agency, che di solito sono il mio contraltare, per farli venire in start-up. Perché non vogliono venireci, anche se li pago di più. Quindi il fatto di avere ottime persone per noi è una cosa stupenda. Bisognerebbe avere molti più profili tecnologici. Non capisco ancora come mai non ne abbiamo abbastanza in Italia. E dall'altra parte siamo un paese che è tenuto poco in considerazione nel mondo tecnologico. Sai che a inizio anno ho venduto una società, questa scale-up americana. Io a un certo momento mi sono accorto che questi stavano guardando o noi o una società in Portogallo. E io mi chiedevo, ma perché il Portogallo? E poi ho scoperto che per loro l'Italia, Milano e Lisbona sono idee etiche. Non cambia nulla. Per noi invece cambia questa roba qui. E questo ti fa capire il fatto che siamo comunque tenuti poco in considerazione. E questo è l'elemento giusto per iniziare a sviluppare e diventare i più grandi possibili in Europa. E poi cercare di fare un'operazione di M&A. Infatti secondo te come si potrebbe coltivare questa cultura scale-up? Perché in realtà quello che manca veramente è la cultura scale-up. Cioè di creare qualcosa, crescerla velocemente, passare alla prossima. Piuttosto che in realtà l'imprenditoria è il cuore dell'Italia. Nel senso che siamo imprenditori da centinaia di migliaia di anni. Adesso sto esagerando. Però come si può coltivare questa cultura scale-up? Secondo me, sai, io penso che uno dei grossi problemi che abbiamo è la paura. Noi siamo sempre molto paurosi nel fare le cose, nel giudizio degli altri. Penso che sia una cosa che in Italia è molto radicata. A me del giudizio degli altri mi interessa veramente zero. Se stessi a sentire il giudizio, probabilmente avrei fatto molto meno cose rispetto a quelle che sono riuscito a fare. Quindi secondo me ci vuole uno slancio di coraggio. Ecco, questa è la cosa che manca. Io in realtà ti dico, vedo un periodo interessante per l'Italia. Nel senso che stiamo probabilmente raggiungendo la parte più bassa possibile di sviluppo che avevamo. Inizio però a vedere tanti ragazzi che hanno voglia di fare. Sento tante start-up ogni giorno. Quindi vedo la possibilità. È ovvio che poi il problema sul quale arriviamo, che è il secondo, è che ci lamentiamo sempre. Mentre non dovremmo lamentarci assolutamente. Anzi, siamo la settima potenza mondiale. Insomma, capitali ci sono. Siamo in Europa, che è un punto fondamentale per me, insomma. Quindi dovremmo veramente lamentarci molto poco e dovremmo invece iniziare a lavorare molto di più. Dovremmo, secondo me, guardare molto di più all'estero. Io ho una cosa che consiglio ormai a tutte le start-up, ed è di una banalità assurda, ma è fatevi sei mesi in Silicon Valley. Non perché poi devi andare a viverla, ma perché vai a respirare un'area diversa. Parli con persone che vedono le cose in una maniera diversa. Un'altra cosa che pecchiamo noi in Italia è che pensiamo sempre troppo in piccolo. Quindi se facciamo un prodotto lo pensiamo per il mercato italiano. Oppure se lo facciamo è una piccola media impresa. Sì, per l'amore di Dio, farà il suo fatturato. Io ne conosco tantissime, sai, le start-up che sono nate e alla fine si attestano sui 3-4 milioni di euro di fatturato. È una piccola media impresa. Non farò mai soldi con le quote che ho di quella società lì. Lo so benissimo, ripeto. Quando tu vai in Silicon Valley parli con gente che vuole fare il prossimo Google. Quella è la sfida. Come imprenditore, come investitore, io voglio sentire questa roba qua. Quando viene uno, mi dice, io voglio fare la prossima Google dei viaggi, dell'agroalimentare. Perfetto, il mio segno tu ce l'hai. Questo è quello che abbiamo bisogno, di pensare molto più in grande. Invece siamo abituati a pensare molto in piccolo. Ci fa molto piacere sentire dire queste cose perché hai centrato alcuni temi che vorremmo esplorare con il nostro podcast. Il primo, l'idea è nata perché troviamo che gli italiani si lamentino troppo. E quindi volevamo portare un po' una ventata di essere un po' più propositivi e positivi invece di semplicemente stare lì a lamentarsi e poi non fare. Quindi ci fa piacere sentirtelo dire. E anche questo dibattito Italia-estero, come bilanciare le due cose, che volevo chiederti anche a te. Perché comunque tu sei italiano e sei un imprenditore italiano, nel senso che molto spesso le tue società nascono e crescono in Italia. Però appunto Checkout Technologies è un esempio di una società che poi tu hai venduto a una schelappa americana. Come bilanci le due cose? Secondo te c'è il potenziale di fare una cosa e rimanere in Italia? Oppure pensi appunto che bisogna fare una cosa in Italia che poi bisogna esportare all'estero? Ma allora, penso sempre di più che bisogna partire dall'Italia perché costa molto meno che partire all'estero. E trovi persone molto più innamorate del tuo progetto, che è fondamentale questo. I primi 10-15 persone devono essere innamorate di quello che fanno, cioè devono essere quelli che non si licenzieranno mai tendenzialmente. E secondo me in Italia li trovi un giro un pochettino più difficile, però poi devi subito andare all'estero. Cioè il nostro mercato non è l'Italia. L'Italia va benissimo per ricerca e sviluppo, se vuoi per creare il prodotto eccetera, ma poi il mercato deve essere l'Europa. Questo è il tuo primo mercato e poi puoi pensare se vuoi agli Stati Uniti. Però sai, c'è anche una logica secondo me di ridurre il rischio. Per ridurre il rischio, prima o poi ci sarà un'operazione di M&A che dovrai fare, che non sarà che ti comprano cash e te ne vai fuori. Magari ti comprano una parte cash e l'altra ti danno le quote della società che ti sta comprando. Ed è un modo per crescere ancora più velocemente. Quindi bisogna pensare che abbiamo questa grossa opportunità. Lavoriamo in un mondo nel quale si fanno M&A tra società molto piccole, che è una cosa che si vuoi... Non ho mai visto un M&A tra due bar o tra due pizzerie, tra di noi invece può succedere ed è un modo per crescere ancora più veloce. Quello che dobbiamo pensare è che il tempo è denaro e quindi dobbiamo cercare di ridurre il tempo il più possibile. Tra l'altro questo è un buon esempio sull'ultima società che hai creato, che è Fresco Frigo. Ci puoi raccontare un po' di cosa si tratta e come ti è venuta l'idea appunto? Qual è il vostro mercato? Sì, guarda, è un'idea, io dico, sempre banalissima. Nel senso che quello che abbiamo visto sono dei trend. Ci sono due trend nel food in modo particolare. Uno è la food delivery, che continua a crescere a doppia cifra ogni anno. Quest'anno ancora di più della doppia cifra, probabilmente a tripla cifra. L'altro è la robotizzazione. Cioè la gente inizierà ad andare nei bar, nel quale non ci sarà più il barista, ci sarà una spina che in automatico ti butta fuori il cibo, ti faranno il caffè, eccetera, eccetera. Quindi questo è quello che succede. Quello che ho pensato io è stato dire, ma proviamo a iniziare a creare una rete di centinaia di piccoli negozietti da installare a pochi metri del mio consumatore. Dove? Negli uffici. Questo è quello che abbiamo iniziato a fare. Uno potrebbe dire, stai facendo un distributore automatico, una vending machine. Che se vuoi, la risposta è anche sì. Però io sto vendendo un prodotto diverso, perché il consumatore attuale non vuole più mangiare la fiesta o i baiocchi. Sì, magari se li mangia, li mangio anch'io, per l'amor di Dio. Però non puoi mangiare la fiesta e i baiocchi tutti i giorni, perché se no alla fine probabilmente morirai. E quindi quello che hai bisogno di mangiare è un cibo più sano. Ed è quello che abbiamo voluto fare noi. Noi abbiamo deciso di fare questo frigorifero, che è installato in più di 200 uffici, tra Milano, Londra, Lisbona e Roma. E all'interno ci sono prodotti freschi, che vengono consegnati ogni giorno, consumati ogni giorno. Noi non facciamo cibo, perché io non sono capace a fare cibo. Noi facciamo tecnologia. Quindi abbiamo fatto questo frigorifero, che in automatico riconosce quello che il consumatore prende dall'interno del frigorifero, e glielo adebita su carta di credito, sul buono pasto aziendale, eccetera. Questo è stata l'idea. Qual è il punto? Che quando siamo partiti noi, questo non era un trend. Cioè si sentiva poco parlare di frigoriferi, di questo genere qua. Adesso sta iniziando a uscire. Iniziano ad esserci start-up in tutta Europa, che iniziano a fare operazioni di questo genere. Noi siamo gli unici che hanno già sviluppato la tecnologia. E quindi stiamo cercando di svilupparci a livello europeo il prima possibile, nel fornire questo genere di tecnologia a questi food supplier, che si occupano invece del cibo. Perché c'è una cosa importante, il cibo non è scalabile, mentre la tecnologia lo è. Una cosa che abbiamo notato, tra l'altro, è che con Fresco Frigo hai deciso di fare una campagna di crowdfunding per tirare su un po' di soldi. Come mai hai deciso di fare una parte di questo fundraising tramite crowdfunding? Ma allora, questo è un anno un po' difficile per i venture capital, nel senso che noi stavamo per chiudere un round a inizio di marzo, poi è successo quello che è successo. E la prima cosa che hanno detto i fondi è, ragazzi, ci mettiamo in pausa e reinvestiamo solo sulle start-up nelle quali abbiamo già investito, diciamo, tecnicamente per salvarle, se vuoi. Quindi tutti i nuovi investimenti, tra cui Fresco Frigo, sono stati bloccati. Allora lì l'idea è stata a dire, chi se ne frega dei fondi? C'è tantissima gente che vuole investire, soprattutto in questo momento, perché questo è il momento nel quale bisogna investire. E quindi abbiamo fatto questa campagna non direttamente su Fresco Frigo, ma su un veicolo, è solo un tecnicismo quello, perché alla fine poi è come essere investitore in Fresco Frigo. Però questo ha sbloccato in realtà altri investimenti, perché sai, un discorso è andare da un venture capital e dirgli sei l'unico che investe. Gli investitori sono un po' delle pecore, cioè cercano sempre di avere qualcuno di fianco, perché dicono se ho fatto una scelta sbagliata io, almeno l'ha fatta anche lui. E quindi l'idea qui è stata a dire, non ti preoccupare, guarda che di fianco c'è già qualcuno che mette mezzo milione, che è questo veicolo che abbiamo fatto passare sul Craofani. E questo ci ha facilitato a chiudere, diciamo, il round che avevamo in piedi. Poi ovviamente sai, questo anno di crisi avevamo un determinato obiettivo di fatturato, che era vicino al milione di euro, che non riusciremo a raggiungere, ma non è importante, perché in realtà penso che sia stata una grossissima lezione per tutti, perché abbiamo capito come rivedere tutti i modelli di business in casi eccezionali come questo che è capitato. Quindi di essere molto più leggeri, di cercare di essere più scalabili e di avere soprattutto molte più fonti di finanziamento rispetto magari a quello che c'era prima. Perché io ti dico, prima chiamavo il venture capital e quello era il modo per raccogliere. Invece ho iniziato a capire che bisogna avere molte più fonti di finanziamento. Ti ho sentito anche dire che è anche utile fare una campagna di crowdfunding per il marketing, cioè per farsi conoscere. Puoi parlare un po' di più perché secondo me la gente pensa, magari non ci pensa, e invece è un buon veicolo per anche farsi conoscere tra l'altro. Quello è un risvolto positivo che io non avevo assolutamente calcolato, ma la realtà è che adesso ci sono 324 ambasciatori, che sono i soci di questo veicolo, che so benissimo che loro parlano di fresco frigo in continuazione ai loro amici, perché ovviamente hanno investito, ma ne parlano nelle aziende dove lavorano. Quindi è un modo molto più facile per riuscire ad entrare. Alla fine c'è la regola che dice che ti basta avere un migliaio di clienti per vivere bene per tutta la vita, se sono affezionati. Ecco, più o meno la logica è la stessa. Insomma, qui ho 324 soci che parleranno in continuazione bene di fresco frigo, lo consiglieranno ed è veramente fondamentale. Sì, è utilissimo. Infatti è una cosa che uno magari non ci pensa, pensa soltanto a raccogliere i fondi e poi ci sono anche delle cose positive che vengono con questa raccolta. Invece ti chiedo una domanda che mi interessa personalmente, perché sono una persona molto anche io curiosa, che ha tanti interessi e lo sai ovviamente anche tu, e hai creato tante aziende in settori diversi, da appunti per studenti a un'agenzia di gheria, marketing, al mondo del food. Come decidi su quali dei a focalizzarti e in che modo non ti disperdi su tante idee? Guarda, è molto complesso, ti dico la verità. Anche adesso se vuoi che ho un periodo un po' di calma, perché non ho più un ruolo operativo in fresco frigo, è molto difficile. Perché come dici tu, il nostro è un mondo nel quale tu hai stimoli in continuazione. Cioè io ti dico, ho continuamente persone che mi chiamano, mi propongono cose, è la normalità di quello che succede. A un certo momento c'ho un filtro naturale e dirò no, questo è quello che voglio fare. Il mio problema è che anche finché fai quello è un casino di stimoli. Devi essere molto disciplinato, è quello del punto. Cioè la disciplina è una cosa che devi imparare. Io che sono tendenzialmente indisciplinato, ho veramente grosse difficoltà. Infatti a volte ti dico, me lo scrivo su un quaderno e dico, io devo raggiungere questa cosa qua. E ogni tanto me lo rileggo per ricordarmi che questa è l'unica cosa che devo fare. Insomma, ti dico anche un'altra cosa. Sai, a volte capita, gli startup fanno pivot, a volte eccetera, però prima di solito di arrivare a un pivot si è testato varie cose. Sono anche dell'idea che sì, bisogna testare secondo me in una prima fase, però poi quando hai un po' di validazione bisogna continuare ad andare su quello per cui gli investitori ti hanno finanziato. Quindi questa è la cosa molto importante. Poi può andare o non andare, per l'amor di Dio. Dobbiamo anche metterci in testa che le aziende falliscono e non è un problema. L'importante è che tu abbia dato il 1000% su quel determinato progetto. Passiamo alla nostra parte consigli. Se potessi dare un consiglio all'Enrico 19enne che ha appena lanciato il suo primo business, quale sarebbe? È una bella domanda questa. Allora, il consiglio sarebbe tieni un profilo basso, spendi il meno possibile perché ci saranno tempi bui davanti. Ma questo è in realtà per tutti. Io mi rendo benissimo conto che, sai, rispetto ad una volta ho un approccio completamente diverso al denaro. È un'altra cosa. Adesso il denaro, ti dico, non esiste nel senso che non è che smagno di comprarmi un orologio nuovo o una casa nuova, eccetera. Sto bene dove sto, sono molto calmo, penso al futuro, penso ai progetti. Questo secondo me è il consiglio migliore che si può dare. Non so quanto sia capibile ma questo è veramente il consiglio che mi sarei dato. Invece dopo aver lanciato 17 società e chiuso 3 exit, quale direi se sono le caratteristiche principali di una startup di successo? Io sono sempre più convinto che bisogna fare progetti incredibili. Cioè, bisogna pensare da fuori di testa, bisogna pensare a mercati giganteschi, hai capito? Bisogna avere l'ambizione di arrivare il più in là possibile. Questo è il modo per arrivare da qualche parte e tu puoi pensare di dire il divento prossimo Google, poi magari non ci diventerai ma avrai sicuramente fatto una cosa molto grande. Quello che invece parte dice no, io voglio fare una web agency, farai la web agency ma non andrai oltre quello. Quindi, questo è secondo me l'approccio. A volte, forse bisogna anche dirsi delle bugie perché anch'io quando dico che voglio fare il prossimo Amazon del cibo tramite Fresco Frigo so benissimo che mi sto raccontando una bugia però in realtà mi sto fissando nella testa che potrei avere una determinata possibilità e cerco di arrivarci prima possibile. Sì, sognare in grande, sognare in grande e poi comunque anche se non arriva all'obiettivo finale arriva già molto più lontano dell'obiettivo se è troppo basso. Invece le caratteristiche per un imprenditore di successo quali sono secondo te? Ma allora, come ti dicevo prima la disciplina è sicuramente la più importante secondo me. La curiosità, il fatto di credere negli altri assolutamente credere nelle idee che arrivano dagli altri anche se sono esterne all'azienda molto importante e poi ce n'è una che ormai per me è ti dico è l'elemento per il quale investo su determinate startup è il fatto che l'amministratore il CEO il fondatore sappia che deve raccogliere soldi in continuazione. Ok, questo è un elemento per me molto importante nel senso che al di là della visione del progetto dell'execution cioè tu puoi essere bravissimo ma a volte quando finiscono i soldi è ininfluente avere belle metriche è meglio avere qualcuno che fa fan raising in continuazione. Alla fine l'amministratore delegato è un bravissimo se vuoi adesso ho una parola sbagliata ma storyteller o quale unico compito è raccontare i progressi dell'azienda il futuro la visione che è lui dell'azienda e raccogliere denaro su questa visione. Poi sotto deve avere una schiera di manager che mettono in pratica la visione che lui ha e la rendono reale ma questo è esattamente il tipo di fondatore che voglio vedere io. Quindi una persona che fa quello e poi contornarsi come dicevi di persone magari più manageriali che si occupano dell'operation e l'execution. Assolutamente. E invece una domanda perché abbiamo notato che comunque tu concedi tante interviste e racconti spesso la tua storia secondo te che valore c'è nel raccontare la propria storia e ascolti anche molto le storie degli altri? Sì assolutamente tieni presente che io ogni giorno penso di sentire almeno tre startup consiglio più o meno mezz'ora tre startup ogni giorno e quindi ascolto pitch parlo con le persone cerco di dirgli quello che farai io cerco di consigliarli ecco questa forse è la parola migliore perché poi so benissimo che il CEO è molto testone il fondatore ha la sua testa e vuole fare quello che vuole fare lui e quindi cerco semplicemente di dargli magari degli spunti il mio lavoro ti dico sul fatto che lascio tante interviste è sicuramente cioè lo faccio principalmente perché voglio spronare le persone a non aver paura a fare questo lavoro c'è molta preoccupazione nel fare l'imprenditore io la trovo una cosa molto semplice a volte sono preoccupazioni che trovo ridicole non so come si costituisce una società dio mio vai da qualcuno che fa quel lavoro lì è un mondo strapieno di professionisti che fanno cose meravigliose affidati a qualcuno che sappia farlo non so come raccogliere il denaro questa è la domanda che c'è il problema che di solito hanno tutti mettiti a incontrare investitori scaricati la visura camerale di tutte le start up guarda chi sono i suoi investitori contattali su LinkedIn cioè sono infiniti i modi di farlo rispetto a 20 anni fa questo è un mondo meraviglioso cioè è un mondo veramente molto facile è ovvio che c'è tanto rumore vero perché ci sono tantissimi founder tantissime start up eccetera e lì bisogna un po' selezionare ed è anche il motivo per cui a volte dico queste robe pensate a fare il google del cibo piuttosto che a fare la web agency che a qualcuno so benissimo che storcia il naso però in realtà è perché dobbiamo pensare alla fase successiva noi il grosso problema che abbiamo in Italia è che abbiamo start up poco professionali ma perché non c'è ancora questa grossissima competizione in Silicon Valley ma anche a Londra c'è una competizione incredibile e ormai gli start up non sono sai un po' come in Italia abbiamo avuto la fase io dico degli scappati di casa 4-5 anni fa erano tutti scappati di casa cioè gente che non trovava un lavoro faceva una start up cioè che è come suicidarsi perché se non riesci a fare uno questo non lo farai mai adesso c'è grazie a Dio una fase diversa c'è una fase in cui i manager di società di consulenza di banche eccetera iniziano a fare start up questa è una fase bellissima quindi hai molta più competenza rispetto a quello che c'era prima io il mio ruolo è semplicemente andare fuori e far percepire che è facile fare questo lavoro anche se in realtà non lo è ok ed è un lavoro difficilissimo ma bisogna renderlo più facile possibile è semplicemente raccontando alla gente che ce la puoi fare che se ce l'ho fatta io ce la può fare chiunque no 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 questo insomma è quello che sto cercando di dare indietro beh speriamo che stiano tutti ascoltando chi ci ascolterà renderà soprattutto questo spunto da questa chiacchierata molto importante e appunto l'hai detto tu stesso anche un po' rischiare un po' di più che è la cosa difficile perché molto spesso le domande che tu facevi tipo non so come si fa questo mi sembrano sintomi di paura in realtà più che di non sapere quindi passare oltre e cercare di figure it out come si dice in inglese quindi poi quelle cose si capiscono quando si va e niente siamo arrivati alla fine dell'intervista e chiudiamo sempre con la stessa domanda che è secondo te in che modo la tua italianità ha contribuito al tuo successo penso che che abbia contribuito in due modi il primo l'abbiamo un po' toccato prima il fatto che siamo un po' indietro se vuoi rispetto ad altri paesi e questa è una specificità secondo me molto italiana o sud europea se vuoi no in realtà non sud europea perché gli spagnoli sono più avanti di noi su certe cose e quindi anche sai se guardo le ultime aziende alla fine sono tutti cloni di qualcosa perché dove potevi fare un altro cado in Europa potevi farlo in due paesi o in Italia o in Grecia non potevi farlo in nessun altro paese infatti chi ci ha provato ha fallito e quindi questo secondo me è un elemento dell'Italia molto particolare siamo indietro rispetto agli altri paesi le grosse aziende non sono così aggregate io penso sempre che chi è Tesco Sainsbury eccetera fanno più del 60% se non ricordo male in UK qui per fare il 60% devi mettere insieme penso 5-6 operatori della grande distribuzione quindi c'è spazio per entrare e il secondo punto secondo me è che ovviamente viviamo in un ambiente che è avverso il mondo dell'imprenditorialità e quindi cerchi sempre di trovare delle soluzioni insomma a qualsiasi cosa grazie mille Enrico della tua disponibilità di averci raccontato la tua storia come hai detto tu secondo me è molto importante ascoltare sentire e capire bene in questo mondo per poter per poter insomma pensarci seriamente e poi è stato bello cercare di capire almeno un po' qual è la mentalità di un imprenditore seriale come la tua e non vediamo l'ora di vedere quale sarà la tua prossima venture come hai detto tu la prossima sarà sempre la più interessante e poi volevo dire ai nostri ascoltatori anche che Enrico ha da poco lanciato una newsletter che si chiama We Make Money Not Startups che consigliamo di seguire la trovate su LinkedIn ma metteremo anche poi il link nelle nostre show notes così potete leggere i consigli di Enrico bene grazie Emilia a tutti voi grazie Emilia di averci ascoltate e mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere nessuna puntata se ci volete dare una mano a crescere lasciateci 5 stelle o una recensione su Apple Podcast ci aiuta a fare scoprire il podcast a nuovi ascoltatori e continuate a condividere Made It con i vostri amici colleghi parenti ci potete seguire su Instagram at madeit.podcast e su LinkedIn cercando Made It Podcast dove condividiamo anche tanti contenuti esclusivi vogliamo ringraziare Sammy Bianchi nostro sound editor e Guglielmo per aver composto il nostro jingle e Guglielmo